Ci vorranno 459 giorni a partire da lunedì 5 febbraio per vedere il nuovo ponte che sostituirà il vecchio ponte Castellamonte sul Ceronda a Venaria Reale e per le altre opere necessarie a migliorare l'accesso alla reggia, al centro storico di Venaria e al Parco della Mandria. Sono questi i tempi contrattuali dei lavori che sono stati consegnati formalmente oggi dalla città metropolitana di Torino che su quest'opera ha ruolo di commettente, all'associazione di imprese aggiudicataria dei lavori. Alla consegna dei lavori erano presenti il vice sindaco della città metropolitana di Torino Jacopo Suppo e il sindaco di Venaria Fabio Giulivi, i rappresentanti del consorzio delle residenze reali Sabaude che con città metropolitana e comune è cofirmataria del protocollo d'intesa per la realizzazione dell'opera e rappresentanti della regione Piemonte che ne è cofinanziatrice. Il progetto che consegniamo oggi prevede una realizzazione in 459 giorni che scadono l'8 di maggio del 2025. La realizzazione del ponte verrà fatta per fasi, vale a dire la prima cosa che faremo è realizzare una viabilità provvisoria a Monte che consentirà comunque l'accesso alla Magneti Marelli e anche alla Reggio. Realizzata questa viabilità provvisoria alla quale bisogna necessariamente arrivare solo dopo aver fatto la bonifica bellica che è prevista in progetto. Fatta la viabilità provvisoria, sposteremo con una struttura in telaiata metallica provvisoria tutte le interferenze e i pubblici servizi che attualmente sono nell'adiacenza del ponte o nella vicinanza della rotatoria che andremo a modificare. Detto questo poi procederemo, solo dopo aver realizzato queste prime due opere, alla demolizione del ponte attuale e alla realizzazione del ponte nuovo. Oggi è un giorno molto importante per Venaria Reale perché abbiamo consegnato alle ditte che hanno vinto l'appalto il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte che collegherà l'SP1 con l'area della Magneti Marelli e della Reggio di Venaria. Un intervento da 9 milioni e mezzo di euro finanziati dalla Regione Piemonte che vede la città metropolitana come soggetto che ha realizzato la progettazione e che sta seguendo tutti i passaggi tecnici. È un intervento importantissimo per questa città atteso da oltre 20 anni che è stato oggetto anche di un grande dibattito all'interno della popolazione ma finalmente riusciamo a dare lo start a questo intervento. Per noi è un momento significativo anche perché andrà a cambiare quella che è la viabilità interna a Venaria sull'SP1. La realizzazione del nuovo ponte aumenterà la sicurezza sia per i ciclisti, sia per i pedoni e sia per il traffico veicolare. È mezz'ora che siamo su questo ponte e saranno passati almeno 50 auto articolati a dimostrazione del fatto che il ponte Castellamonte su cui siamo adesso non è più sufficientemente strutturato per sostenere questo tipo di traffico e il nuovo ponte che realizzeremo è sicuramente un tassello in più per aumentare la sicurezza della nostra viabilità metropolitana. Inizia un'opera che attendevamo da 25 anni dall'accordo del programma del 99 è un'opera fondamentale per evitare problemi a tutta quest'area di Venaria. Sappiamo che il ponte Castellamonte, dove siamo attualmente, non ha tanto problemi strutturali ma quanti problemi idrici in caso di piena delle acque a causa delle campate troppo basse che formano un elemento di ostruzione a regolare del flusso delle acque e quindi quest'opera importante da quasi 9 milioni di euro consentirà la messa in sicurezza di questa zona. Un ponte tra l'altro nuovo che consentirà il collegamento alla Mandri, alla Reggio, al nostro centro storico, al distretto industriale della Magneti Marelli e quindi sicuramente un ponte che avrà anche accessi di sicurezza, pedonali, accessi appunto per le biciclette, oltre che per i mezzi che come vediamo sono numerosi e rappresentano una fonte di pericolo per la commissione attuale. È importante sottolineare che abbiamo cercato fino all'ultimo di provare a conservare l'attuale ponte, il vecchio ponte Castellamonte, dove siamo noi oggi ora. Il problema è che non è possibile, in quanto il problema non è strutturale ma idrico e quindi non possiamo mantenerla neanche come passerella pedonale o ciclabile, ma va abbattuto, proprio appunto per consentire di evitare problemi in caso di piena del fiume.